Secondo alcune ricerche, il canile comunale di Pesaro è il primo in Italia, tra quelli pubblici, ad utilizzare una tecnica innovativa volta alla cura di alcune problematiche comportamentali dei cani. L'iniziativa promossa dalla cooperativa T41BIS, in collaborazione con il Rotary Club e il Comune di Pesaro, si chiama Apelo d'Acqua e consiste nel trattare in acqua i cani con problemi di aggressività, paura, fobia o iperattività. Il canile di Pesaro, per rendere possibile questa pioneristica terapia, si è dotato di una piscina munita di rampa, giochi e di imbragature e di due educatori cinofili specializzati in questo particolare trattamento. Il progetto nasce proprio come ulteriore contributo a quei cani che arrivano in canile con problemi comportamentali e ai quali non vogliamo lasciare niente di intentato come possibilità di un probabile adozione. Quindi il progetto Apelo d'Acqua si accosta a un lavoro già di base, di educazione, per rendere i cani problematici socievolmente operabili all'interno del canile. Con i cani fobici, con i cani che hanno problemi di ansia, l'acqua crea una situazione avvolgente, una situazione che rende il cane proprio più mansueto. E tra l'altro, anche nel rapporto con la persona, favorisce proprio il rapporto. Nel momento in cui il cane entra in acqua, entra in una situazione per lui non abituale. Per cui, per esempio, un cane aggressivo, dovendo nuotare e dovendo provvedere alla sua sopravvivenza, è molto meno attento agli stimoli esterni, per cui permette maggiormente l'approccio con l'umano fino al contatto. E questo, ripetuto poi nel tempo, il cane lo memorizza e tutto questo poi è possibile anche al di fuori dell'acqua. Da qualche anno a sta parte, il canile di Pesaro riceve molto meno cani abbandonati, il che viene visto come un aspetto positivo dalla cooperativa T41bis, che però, d'altro canto, si trova ad accogliere sempre più cani con problemi comportamentali. Problemi che poi rendono complicata l'adozione. La tendenza, perlomeno nel nostro canile, ma non solo nel nostro canile, ma in tutto il nostro territorio, è quella di ricevere sempre meno cani trovati vaganti sul territorio e ricevere sempre più cani con problemi comportamentali, cioè cani che vengono da famiglie, dove i proprietari hanno avuto difficoltà, per non dire incapacità, nel gestirli. E quindi vengono portati in canile. Questi cani, naturalmente, alcuni dei quali sono anche aggressivi, poi hanno poche, scarse possibilità di essere adottati, e quindi è doveroso un lavoro di recupero comportamentale. Per cui il canile, proprio come finalità, si sta modificando, perché da una situazione semplicemente di luogo dove il cane viene posto in attesa di un'adozione, diventa un luogo di recupero, di educazione.